carissimi ma soprattutto carissime bentornati qui su 80 passione e l'ottantunesimo minuto il tabellino dice inter 3 vittoria plezen 0 e il numero 90 la paura romelu lukaku dovrebbe subentrare a momenti in campo adesso c'è un calcio d'angolo per la squadra della repubblica ceca l'arbitro che dà disposizione a tutti mi raccomando non vi trattenete calcio d'angolo esce onana con i pugni e va in direzione di nicolo barella barella che oggi ha giocato per me una gran bella partita ma tutta l'inter è stata davvero sul pezzo adesso continua con gossens che la dà su dunfriss dunfriss addirittura va al tiro e impegna l'estremo difensore della squadra ospite che devia in calcio d'angolo andando un pochettino a raccontarvi la i gol e intanto romelu lukaku sta per fare il suo ingresso in campo subentrerà credo quasi sicuramente al suo amico fraterno lautaro martinez che oggi non ha segnato ma come al solito un'altra gara importante del toro argentino che dà il 5 a tutti i vari compagni di squadra ripeto oggi secondo me la catena di sinistra è stata davvero in palla mi è piaciuta tantissimo e infatti gli stessi protagonisti di quella catena di sinistra bastoni di marco e mkhitaryan hanno davvero permesso all'inter di portarsi in vantaggio perché al trentacinquesimo minuto un'azione insistita di alessandro bastoncino findus sulla sinistra un cross al centro ceco che va un pochettino a vuoto anche secondo me confondendo le idee del del portiere della squadra avversaria e mkhitaryan di testa può insaccare e quindi dare gioia al pubblico corso numerosissimo stasera in quel di san zio mkhitaryan che proprio un paio di minuti prima si era mangiato un gol a tu per tu in in area di rigore subentrato anche addirittura gagliardini al posto proprio di mkhitaryan che aveva segnato il gol del vantaggio nerazzurro poi dopo il secondo è stato davvero una un gol meraviglioso che a conclusione di un'azione straordinaria avviata da barella che adesso secondo me oramai ci sta abituando troppo bene perché alza la testa un lancio da 35 40 metri sulla corrente di marco che davvero oggi era in stato di grazia perché ha stoppato poi con la palla che rimbalzava l'ha messa subito di prima un vero e proprio cioccolatino al centro dell'area di rigore che geco doveva soltanto scartare quindi appoggiare in rete quindi il cigno di sarajevo assegnato il 2 a 0 al 42esimo minuto e in quel caso anche i più pessimisti anche coloro che avevano paura come l'amico cesare che dopo il pareggio di barcelona io che gli dicevo tranquillo al 99 per cento siamo agli ottavi tanto un'azione insistita di correa non ci credo però poi dopo che finisce nel nulla e quindi come dicevo all'amico cesare stai tranquillo sul 2 a 0 veramente proprio il pubblico di san ziro era stracontento correa che si fa deviare il pallone in aria sarà da ridere non lo so vediamo scommettiamo che ci sono più probabilità che segni un gagliardini o qualcun altro invece che correa comunque vi dicevo quindi 2 a 0 andare a riposo su un quel risultato praticamente aveva veramente messo la vittoria in ghiaccio e poi dopo nel secondo tempo l'inter ha continuato anche soprattutto tante belle azioni pregevole un palo colpito da mkhitaryan da fuori aria e poi c'è stato il 3 a 0 al 66esimo minuto sempre realizzato dal cigno di sarajevo ed in gecko azione avviata da barella un'imbucata in aria per l'autolo martinez che invece di essere egoista ha servito il suo compagno d'attacco e gecko di sinistro un sinistro chirurgico che è stato leggermente deviato da un difensore del victoria plusden e quindi ha realizzato la doppietta personale il 3 a 0 per l'inter era il 25 di agosto oggi il 26 di ottobre praticamente due mesi fa ci sono stati i sorteggi di champions ero in vacanza ad atlantic city una località famosa per il gioco d'azzardo e avevo detto non scommettato correa un assist meraviglioso di barella si era lunghi in aria comunque avevo detto non mi giocherei neanche un euro in quel caso un dollaro sulla qualificazione agli ottavi dell'inter e invece sono strafelice ma come sono felice di sbagliarmi nella vita voi non avete idea palla verso lukaku e lukaku segna il 4 a 0 in diretta chi l'aveva detto romelu lukaku è una pippa tornerà romelu sarà la rovina la disgrazia dell'inter perché c'è i piedi a merluzzo e invece romelone con tutta la famiglia anche la mamma e i figli fa il 4 a 0 manda un bacio verso la curva bacia allo stema dell'inter tutti in panchina di marco in piedi guarda la prende la stoppa la dà correa assist e palla sul primo palo 4 a 0 romelu lukaku il figlio prodigo è tornato a casa giusto ieri parlavo col mio vicino di casa calam super tifoso del celsi che ha detto non mi manca minimamente lukaku meglio detto tu lo devi saper amare lo devi saper amare devi saperlo coccolare a romelu e soprattutto non ci deve avere in panchina uno come tuchel anche ed in geco se la ride davvero lukaku è ritornato e ha segnato anche in champions perché c'è anche gente che dice in champions segnano solo quelli bravi intanto quelli bravi i fenomeni se ne tornano a casa intendo quelli del barcellona anzi stasera vedetevi barcellona bayern monaco perché sarà una partita da leccarsi baffi davvero altissima scuola con pedri gavi lewandoschi che se n'è andato da monaco di baviera e poi dopo vabbè forse pensava di avere più possibilità di vincere la champions in quel di barcellona addirittura lukaku stava tentando un colpo di tac un assist per correa però correa non è riuscito a sfruttare il passaggio del compagno e niente alla fine ripeto bisogna essere felici festeggiare comunque anche in maniera pacata però ricordiamocelo secondo anno consecutivo che ci qualifichiamo agli ottavi di champions con simone in zaghi in panchina lo so benissimo che non sarà ai livelli dei migliori in europa però siamo onesti tolto guardiola e club che comunque quest'anno non è che se la stia passando benissimo a liverpool anche lui che è un allenatore straordinario quando ci sono tanti infortunati quando le cose non girano non è che sono mago berlino c'hanno la bacchetta magica intanto lukaku che chiede il movimento a correa palla verso correa che se la fa parà gli aveva fatto un assist io l'ho detto che correa c'è adesso scommette correa neanche a porta vuota c'ha ragione lo zio giorgio che saluto sarà felice che lo cito nel video altrimenti si ingelosisce correa è una peppa al sugo ma non perché non c'ha le qualità tecniche perché come diceva mia nonna è intelligente ma se non ti applichi tutta quell'intelligenza te la fichi in quel posto ed è così correa non c'ha la cazzimma non c'ha la cattiveria arriva davanti alla porta e si specchia vabbè comunque siamo all'ottantanonesimo minuto screener che la mette fuori barella che la allontana ripeto quel che sarà sarà al momento ci sono secondo me tre squadre assolutamente di un altro livello in champions league che sono il city la squadra più forte d'europa che secondo me con a land si è completata e considero strafavorita per la vittoria finale poi ci metto il bayern monaco ma fortunatamente essendo nel nostro girone anzi martedì prossimo mandiamo la primavera perché poi dopo la partita importante sarà domenica 6 novembre in trasferta a torino contro la juventus quella va vinta contro il bayern di monaco mandiamo la primavera pure che si perde 3 4 a 0 chi se ne frega tanto ci siamo qualificati e sappiamo benissimo che il primo posto è nelle mani del bayern che al momento ha 12 punti e dopo di che e noi ne abbiamo 10 ma ripeto è già tanta cosa tanta roba essersi qualificati e poi la terza squadra metto sullo stesso livello sullo stesso piano real madrid e paris saint germain perché comunque giocare contro sua maestà messi è sempre molto ma molto complicato tolte queste quattro squadre ma ripeto una di queste non possiamo incontrarla perché già era nel nostro girone secondo me contro le altre ce la giochiamo lo stesso napoli che sta giocando un calcio meraviglioso in europa non lo possiamo incontrare agli ottavi perché squadre dello stesso paese non si possono affrontare intanto gagliardini che sembra veramente forest gump corri gaglia e palla al piede addirittura l'arbitro ha segnato tre minuti di recupero ma io credo che interromperò qua il video vi ripeto secondo me finisce 4 a 0 lukaku ha segnato siamo tutti felici e contenti adesso vediamo perché ritorniamo in campionato sabato sera contro la sandoria sarà fondamentale fare altri tre punti e poi ripeto martedì prossimo andiamo la primavera a monaco di baviera in gita e dopo di che domenica 6 ci sarà la trasferta contro la juventus con questo è tutto cuori nerazzurri ovunque vi siate siate felici oggi un giorno per festeggiare e soprattutto essere orgogliosi di questa squadra e di questi colori poi a febbraio dopo il mondiale dopo una gran parte dell'inverno vediamo quello che succede ma dopo ne riparleremo adesso dobbiamo cercare di chiudere al meglio prima della sosta del mondiale il campionato rimangono quattro partite sarebbe davvero fondamentale fare tre vittorie e un pareggio con questo è tutto ci risentiamo alla prossima viva l'inter che continuerà a rappresentare l'italia nell'europa che conta insieme al napoli e molto probabilmente anche al milan con questo è tutto ci risentiamo alla prossima ciao